Questo non è un semplice supermercato. Ogni giorno ritrovi freschezza, qualità e i sapori genuini di una volta. In vista del derby tra cavese e polisportiva sarnese sembra destinato a crescere nuovamente l'entusiasmo a cavare i tirreni per una squadra metelliana che ha fatto spesso un ottimo gioco e non ha lesinato personalità in campo esterno, così come si è visto anche ad alta mura nella partita di domenica scorsa. Il club Aquilotto ha anche ufficializzato il ritorno del centrocampista Francesco Favasuli, il cui innesto nella rosa si può inserire in maniera funzionale anche nello scacchiere tattico di mister Bitetto per le esigenze che c'erano. Il 34enne calciatore calabrese, tornato in Serie D dopo ben 15 annate tra i professionisti, nella scorsa stagione con la Vibonese è stato schierato spesso davanti alla difesa, mostrando anche buona visione di gioco, dunque è perfetto anche per completare il centrocampo della Cavese. Tuttavia la polisportiva sarnese ha già totalizzato 10 punti in classifica contro i 7 dei metelliani. La compagine allenata da Valerio Gazzaneo ha quindi solo 2 punti in meno rispetto al potenza capolista e ha trovato nel sistema di gioco 4-2-3-1 la chiave per esaltare i giocatori offensivi, uno dei quali, Ciro Favetta, ha segnato ben 6 reti in 4 partite di campionato giocate. Eppure i Granata non sono partiti per disputare una stagione di vertice, ma proprio per questa ragione stanno riuscendo a esprimersi senza pressione alcuna, con spensieratezza, e la Cavese dovrebbe stare molto attenta nell'affrontare a Lamberti, davanti al proprio pubblico, una squadra avversaria con l'agilità e con la personalità dei sarnesi. Domenica potrà vincere solo chi sbaglierà di meno. Intanto la società a cui lotta si prepara a confermare per i biglietti che serviranno per accedere allo stadio Cavese-Sarnese, grosso modo i medesimi prezzi già adottati in occasione del match casalingo di due settimane prima con la Versa Normanna.